Nel mondo in continua evoluzione in cui viviamo il cambiamento è l'unica costante. Per abbracciare appieno queste trasformazioni e trarne vantaggio è essenziale sviluppare la capacità di immaginare, sognare e concepire nuovi orizzonti. Il nostro seminario di due giorni intitolato il potere curativo dell'immaginazione si propone di esplorare profondamente il ruolo trasformativo dell'immaginazione nel quotidiano. Per il completo star bene far uso della creatività e dell'immagine simbolica per lo sviluppo di intuizioni e percezioni più profonde è tra le pratiche più arricchenti. semplici e funzionali. Durante queste due giornate emotivamente coinvolgenti i partecipanti avranno l'opportunità di imparare a sfruttare l'immaginazione come fonte di guarigione e crescita personale, riconoscere ed abbracciare il cambiamento di frequenze in atto nelle nostre vite, utilizzare la visualizzazione creativa per sviluppare una visione chiara e ispirata del proprio essere, esplorare il potenziale trasformativo dell'arte, del suono, della voce e della narrazione nella creazione di nuove prospettive, condividere esperienze e connettersi con altri partecipanti desiderosi di esplorare il potere della geniosi, il genio che è in noi. Martina e Giordano vi guideranno attraverso una serie di pratiche, di confronto attivo, di racconti e attività creative che consentono di applicare questi concetti nella vita quotidiana. Si tratta di una straordinaria avventura nei mondi sottostanti la superficie per vivere la propria unicità senza sentirsi alieni sulla terra. Preparati a sperimentare una trasmutazione profonda e a scoprire il potere guarente del regno immaginativo. Laggiù c'è tutto quello che vai cercando. Grazie a tutti. Grazie a tutti.